Qualsiasi iniziativa che questa amministrazione comunale vorrà intraprendere per ricordare Fabrizia Di Lorenzo sarà concordata con i familiari della ragazza, così ha ondatici il Presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Katia Di Marzio, a proposito della ventilata proposta di dedicare un luogo della città di Sulmona alla giovane uccisa nell'attentato di Berlino. Non è assolutamente questo il momento di affrontare l'argomento, chiarisce Di Marzio, spiegando che ora bisogna solo rispettare il grande dolore della famiglia. Sicuramente come Comune di Sulmona sceglieremo la formula più opportuna, ma tutto sarà concordato con i familiari, ringare il Presidente dell'Assise Civica, annunciando che nella prima saluta consigliare del 2017 sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Fabrizia. Sulla stessa lunghezza d'onda si era posta qualche giorno fa il Sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, demandando in un secondo momento la scelta di dedicare a Fabrizia un luogo che abbia a che fare con la vita sociale della città. Nel frattempo il Comune di Contursi Terme nel Salernitano ha avviato l'iter per intitolare una strada alla 31enne sulmonese vittima della tragedia di Berlino. L'annuncio è serotato nei giorni scorsi da Consigliere Comunale Fabio Rosa, il centro di 3.000 abitanti e il paese di origine del nonno di Fabrizia, Antonio Di Lorenzo.